L'intervento chirurgico di sostituzione protesica dell'Anca rappresenta oggi uno degli interventi maggiormente eseguiti in ambito ortopedico con l'obiettivo di eliminare il dolore prodotto da una patologia degenerativa come l'artrosi o da una patologia metabolica come la necrosia vascolare della testa del femore, caratterizzata entrambe da una progressiva usura delle cartilagini articolari della testa del femore e dell'acetabolo del bacino. Consente inoltre di ripristinare la biomeccanica articolare interrotta dalle fratture del collo del femore di natura post-traumatica. La via d'accesso anteriore mini-invasiva, identificata dall'acronimo ASI, anteriore, supina e intermuscolare, rappresenta a mio giudizio la massima espressione del concetto estremamente attuale di chirurgia mini-invasiva, intesa non soltanto come piccolo taglio ma come conservazione del tessuto osseo e risparmio delle inserzioni muscolo-tendine. Tutto questo reso possibile grazie alla ricerca di biomateriali e al design degli impianti protesici che ha portato all'introduzione di protesi all'avanguardia di piccole dimensioni e di strumentari dedicati a questo tipo di intervento. Questa tecnica anteriore mini-invasiva, che ormai da diversi anni utilizzo nella quasi totalità dei pazienti presso ospedali privati Forlì, presenta rispetto alle vie chirurgiche tradizionali numerosi vantaggi. Innanzitutto una cicatrice chirurgica cutanea estremamente ridotta, di circa 7 cm nella regione laterale della coscia, con la possibilità di ottenere tramite la variante bikini nella piega inguinale una grande efficacia dal punto di vista estetico, soprattutto nelle donne. Un minore ingombro di tessuto cicatriziale a livello dei piani muscolari profondi, una riduzione delle perdite ematiche intra e post-operatorie, quindi minor necessità di eseguire trasfusioni, ma soprattutto grazie al risparmio delle inserzioni muscolo-tendine di glutei ed extra-autatori dell'anca, muscoli estremamente importanti nella stabilità del bacino, consente di ridurre il rischio di zoppia, il dolore post-operatoria e di garantire una maggior stabilità dell'impianto protesico, riducendo quindi la principale complicanza caratterizzata dalla lussazione della protesi. Tutto questo si traduce in un precoce protocollo riabilitativo e una rapida ripresa funzionale con un ritorno alle attività quotidiane, anche sportive, in tempi molto rapidi. Già 24 ore dall'intervento il paziente operato di protesi d'anca viene messo in piedi, inizia il percorso riabilitativo che lo porterà nel giro di circa 5-7 giorni ad una buona autonomia nella deambulazione, nel salire e scendere le scale, percorso che poi proseguirà ambulatorialmente e che lo porterà nel giro di 4 settimane ad una rapida ripresa funzionale.